Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo video sarà un video informazioni per Fiera Cavalli 2019. Faccio questo video in questa postazione perché mi trovo in hotel. Troppo non riesco a farla a casa perché devo farla uscire in tempo per darvi tutte le informazioni necessarie. Quest'anno sarò presente in Fiera a Verona dal sabato alla domenica, quindi sarò due giorni in giro al posto di uno come l'anno scorso. La Fiera è dal 7 al 10 novembre, io sarò appunto il 9 e 10 novembre in Fiera. Allora, io e altre ragazze abbiamo pensato di organizzare questi due piccoli incontri perché pensavamo che sarebbe stata un'idea molto carina. In questi incontri avrete la possibilità di incontrarci, di parlare, di fare foto o comunque di stare insieme. E adesso vi do tutte le informazioni inerenti a questi incontri. Vi lascio qua da qualche parte, diciamo, i volantini che gentilmente ha creato la nostra fantastica Chiara, che sono davvero stupendi, è stata bravissima. Dove si svolgeranno appunto questi incontri? Allora, saranno all'angolo tra i padiglioni 5, 7 e 8, che sono davvero semplicissimi da raggiungere, lo vedrete appunto sulla mappa. Si trovano vicino al centro servizi arena e al centro servizi delle erbe. Comunque sulla mappa lo vedrete ed è davvero facile da raggiungere. Quando ci potrete trovare appunto in quella zona lì? Allora, il sabato ci troverete appunto dalle 15 in poi, invece la domenica dalle 16 in poi. Allora, per quanto riguarda me, io la domenica non so se riuscirò a stare più di quel tanto, perché comunque poi ho il treno da prendere verso, mi pare, le 6 e mezza o comunque verso le 6, quindi penso che non riuscirò a stare più di mezz'oretta o comunque un quarto d'ora. Quindi mi troverete di più diciamo il sabato. Quindi se volete parlare un po' di più con me, mi troverete diciamo più tempo in quella zona il sabato invece che la domenica. Allora, se verrete appunto all'incontro durante quelle fasce orarie, avrete la possibilità di incontrare un sacco di noi youtubers e anche non. Ci saranno appunto Ludovica Lupidi, ci sarà Chiara Manfredini, Giada Franchini, le ragazze del canale di Your Session World, Antia Mascari e infine ci sarà anche Gabriele Diamanti e ovviamente poi ci sarò anche io. Quindi niente, per quanto riguarda l'incontro penso di aver detto tutto. In caso di pioggia ancora non so come si svolgerà l'incontro, ma comunque vi aggiorneremo appunto su Instagram, quindi mi raccomando seguite appunto i miei due profili principali che sono Katie Pussovarov e Questran Katie, dove vi metterò tutte le informazioni appunto sulle Instagram Stories. Niente, mi raccomando venite in tanti che sono strafelice e straemozionata di incontrarvi perché l'anno scorso è stato davvero fantastico, anche se l'incontro era un pochettino organizzato male anche perché appunto pioveva. Speriamo che quest'anno l'organizzazione sarà migliore. E niente, davvero non vedo l'ora perché l'anno scorso siete stati in tantissimi, siete stati dolcissimi, carinissimi. E in ogni caso, anche se mi vedete girare in fiera, mi raccomando fermatemi, anche se siete magari un po' imbarazzati. Io davvero non mangio nessuno, sono stragentile con tutti, mi piace un sacco parlare con voi, fare foto. E niente, spero appunto di vedervi in tanti e quindi niente, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che appunto verrete all'incontro, mi raccomando scrivetevi nei commenti se ci sarete oppure no. E niente, noi ci vediamo in fiera. Vi mando un bocciano gigante a tutti, noi ci vediamo al prossimo video, ciao! Ciao!